La sesta commissione permanente Sanità, preseduta dal consigliere Rita Daniele, è composta da Calogero Bellavia, Francesco Dolce, Walter Dorato, Davide Mirisola, Luigi Romano e Rosalinda Talluto, dall'inizio del proprio insedimento alla luce della situazione di pericolo che si è venuta a creare in varie zone della città, a causa della presenza di numerosi cani randaggi, ha deciso di affrontare il problema per proporre soluzioni che possano garantire sicurezza e serenità alla cittadinanza. A tal fine i componenti della commissione hanno avviato una serie di incontri con tutte le componenti del territorio che si occupano, a vario titolo, del fenomeno del randagismo, ASP, Polizia Municipale, Associazione Animaliste, Ordine dei Veterinari, Responsabile del Canile Municipale, ecc. A seguito di tali incontri e dall'acquisizione di copiosa documentazione, la commissione sta elaborando un documento di sintesi sulle possibili risoluzioni della problematica, anche in considerazione delle azioni che l'amministrazione attiverà in materia. Grazie.